A domani. Salve. Lei è Tyler, vero? Buonasera, signorina Steele. Il signor Gray la sta aspettando. Buonasera, Anastasia. Scusa, tu piloti questo? Scusa. Non si scappa più ora. November 1, 2, 4. Charlie Tango, pronto al decommo. Ricevuto, Charlie Tango. Il piano di volo da Portland a Seattle è stato approvato. Seattle? Stiamo andando lì. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Sì, sì. Grazie a tutti Bevi qualcosa? Sì, grazie Wow Wow Tu suoni? Sì Certo che suoni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti